Il Borgo di Carmignano Nella campagna tra Firenze e Prato È uno di quei luoghi che lasciano senza fiato È come un angolo di paradiso immerso nel verde Il centro è molto piccolo ma ricco e estremamente interessante Uno dei motivi che rende Carmignano un importante punto turistico È la Villa Medicea La Ferdinanda ad Artimino Chiamata anche dei Cento Camini Perché ne ha uno per ogni stanza L'edificio, voluto dal Granduca Ferdinando dei Medici È stato progettato dall'architetto Bernardo Montalenti Diventata nel 2013 patrimonio mondiale dell'UNESCO La villa è visitabile gratuitamente su prenotazione E non voglio aggiungere altro Perché vale davvero la pena andarla a vedere Grazie a tutti Grazie a tutti.